e affronteremo lo stesso problema da un altro punto di vista, cioè come facciamo noi a ottenere questa unità e con Tommaso ne parleremo da un punto di vista dell'unità del sapere, no? Io lascio questa ultima frase che è una frase di Heidegger che dice che tutto sommato noi ancora oggi non siamo capaci di pensare. Anzi non c'è già una forza. Allora, se qualcuno vuole fare delle domande, mi fa un segno, mi sarebbe molto piacere. No, io volevo dire, forse c'è forse un pre-pensare al quale noi facciamo molto, a cui diamo credo molto poco conto, un pensiero prima del pensiero, a volte viene individuato anche come la follia, una forma di follia, ma non la follia in sé, perché la follia in sé è il pensare male. La follia in sé è una persona malata in mente, generalmente pensa male. Invece forse c'è un pre-pensiero che forse io l'ho letto una volta in Jasper, che diceva proprio questo lato oscuro, questo lato profondo, prima della razionalità, dal quale forse noi potremmo attingere la capacità di superare il pensiero in modo da percepire, cioè da sganciarci da quella gabbia, che per me è la prigione più dell'anima e del corpo, è la prigione del cervello, cioè delle nostre forme mentali che ci impediscono di arrivare a qualcosa di diverso che c'è fuori e che non riusciamo a percepire e che ce lo impedisce determinate categorie mentali. E forse se riusciamo ad attingere, liberarci, esettare tutto quello che sono le formule che ci portano in una certa direzione, riusciremo ad arrivare all'essenza di quello che forse poi ci porterebbe a vivere in una maniera completamente diversa da quella in cui viviamo. Sì, sostanzialmente intendi dire che non è né l'anima né il corpo fisico quello che è la nostra prigione, ma sono le nostre forme mentali, culturali, le forme che il pensiero produce che nella misura in cui solgono per aprirsi alla realtà, in realtà chiusono il pensiero, no? E' questo. Sì, quindi mi stai dicendo che il problema non è l'identificazione in una sostanza, ma è l'effetto, diciamo così, del pensiero, quello che conta. Quindi corpo e anima non sono altro che due modi, due costruzioni del pensiero stesso. Sono sicuramente raccordi. Infatti, se noi volessimo andare veramente alla radice di quello che è la distensione arbitraria fra mente e corpo, fra anime e corpo, fra corpo e pensiero, io preferisco dire pensiero piuttosto che mente, eccetera, bisognerebbe cercare di andare un po' a vedere che ne è del nostro sentire, perché l'impressione che io ho è che tutto nasce dal sentire e la mancanza di un pensiero tende poi ad evitare anche mancanza di sentire. Perché io percepisco un problema della nostra identità innanzitutto nella forma che sentiamo sempre meno. Si sente meno, ci si emoziona meno, forse si capisce di più. Abbiamo molti strumenti per capire, abbiamo tante informazioni da lavorare, ma quanto noi le sentiamo queste? Quanto perdiamo il senso, proprio le essenziali. E non sentendo poi perdiamo il senso. Perché secondo me il pensiero è una cosa, ma quello che noi pensiamo del pensiero, quando noi lo vogliamo analizzare, quando vogliamo possiedere un'autoria, è una cosa diversa, è un modello. E quello che praticamente, lì già parlava di segni, c'è un'analogia, è qualcosa che rappresenta. Quindi quando noi pensiamo al pensiero, a qualcosa che noi dobbiamo elaborare, metterlo in base di matrile, eccetera, stiamo costruendo un'analogia che però non è un pensiero. È una cosa diversa. Quindi quando pensiamo di mente e corpo, in realtà pensieri, è un modello del nostro pensiero, non è un pensiero, perché al pensiero non ci arriveremo mai. Perché ogni volta che qui cerchiamo di pensare al cervello, costruiamo un modello che per noi diventa un modello rappresentativo, ma che non sapremo mai se il pensiero è vero. Sì, però noi non possiamo pensare che i modelli che noi pensiamo siano qualcosa di estrinseco a noi. Cioè i modelli tra cui il pensiero pensa sono ciò che il pensiero è. Il pensiero è un'evoluzione, un movimento di modelli che si negano e si disoccupano direttamente fra di loro. altrimenti tu pensaresti che il modello del pensiero... Tu dicevi prima il sentire. Il sentire è probabilmente qualcosa che non è un modello. Finché non lo analizziamo, finché lo trasformiamo in qualche cosa che tutti vogliamo ragionare, al momento in cui lo facciamo diventare oggetto del ragionamento, diventa un modello, finisce di essere il sentire, finisce di diventare un modello. A quel punto non è più realtà, è qualcosa che noi abbiamo costruito, che pensiamo, per quanto motivo si debba essere uguale a quello, ma non è la realtà. Quindi qualsiasi cosa che noi pensiamo, mentre come percezione in realtà, non stiamo ben parlando della realtà, stiamo parlando di quello che è il nostro modello, di quello che può essere la realtà. E il problema osservato o osservatore? Tenendo conto del fatto che un'affezione, un sentire, una percezione, giustamente sono diversi dall'intenzione di una percezione, l'intenzione di un'affezione, e l'intenzione di una percezione qualsiasi, cioè anche fenomenologicamente non è la stessa cosa sentire e dirigersi sul sentire stesso. Il discorso sul modello che si può fare è che c'è il rischio su questo discorso, è della riduzione del logos a nomos, cioè della logica come pensiero a strumento di pensiero. ed è quello che c'è la tendenza calcolistica e razzicinante di questa tendenza soprattutto nella logica formale, perché nel momento in cui uno stabilisce degli assiomi, un linguaggio, delle regole di inferenza per cui le dure dei teoremi dimostrabili ed è decidibili all'interno di un sistema formale e non fanno nessuna assunzione sulla realtà, sull'essenza di questi oggetti che postula. Però questa convinzione che spesso anima il matematico in genere, poi ne parleremo meglio il prossimo sabato, del fatto che siano strumenti ad hoc creati di cui la mente dispone porta alla contraddizione di pensare che questi strumenti si siano originati a partire da altri strumenti. Se questi sono strumenti devono esistere degli strumenti antecedenti, strutturalmente superiori a questi strumenti che hanno creato i primi e così via. E abbiamo il regresso all'infinito. Quindi per questo se ne esce solamente pensando il fatto che gli oggetti di pensiero non sono mere costruzioni astratte, costruzioni esterne al pensiero stesso che lo modellano e che non possono coglierne la vera natura. Questo potrebbe essere ma non potremmo mai affermarlo con certezza. Perché il fatto che... Potremmo neanche legarlo. Beh, il fatto stesso c'è l'unica possibilità che rimane è quella di concepire il logos, il pensiero stesso come ciò che ti si dà, ciò che si dà la datità appunto che ha... il concetto da cui parte lo stesso Husserl e che porta avanti tutta la sua la sua ricerca di pensiero. La datità degli oggetti intenzionali di coscienza è l'unico dato per cui si può aggiungere delle conclusioni, si può... l'unico dato analizzarle. C'è una frase delle idee per una fenomenologia pure per una filosofia fenomenologica di Husserl nella prima parte dove si pone questo principio secondo il quale tutto ciò che si dà naturalmente alla coscienza ed è impurato da concezioni soggettivistiche, empiristiche, positivistiche, anche scientifiche soggettive, di opinione, eccetera, è fonte e di conoscenza in quanto realizzarsi di una teoresi pura e ingenua della ragione che solamente ciò che viene percepito primariamente in questo senso come datità può essere fonte di conoscenza vera, diciamo, in questo senso. Non pensi che ogni volta che si fa ragionamento si crea un terreno o si truppa una teoria stiamo sempre facendo lo stesso errore di prima, scambiamo un modello per il pensiero. Ma di fatti ora veniamo davvero fuori tema perché il discorso sarebbe lungo e meriterebbe una trattazione più ampia però la logica formale e la matematica non sono delle rappresentazioni univoche e assolutamente fondate di ciò che è il pensiero sono degli strumenti oggettivi direbbe dell'intelletto astratto posti in senso astrettamente intellettivo quindi slegati disgiunti fra loro non in senso dialettico per il quale e a partire dai quali si stabiliscono delle regole e si decide di analizzarne delle loro conseguenze quindi sono sì dei modelli sono degli strumenti però non risolvono la loro stessa fondazione non risolvono il fatto stesso di essere concepiti come degli strumenti voglio raggiungere scusami che il modello in sé non è un qualcosa di negativo in quanto occultante l'oggetto il modello per esempio nella fenomenologia di Husser il modello lui lo chiama il noema è sempre il medio fra l'intenzione del pensiero e l'oggetto ed è sarebbe il significato sarebbe il significato non è una questione di fiducia non è una questione di fiducia perché i casi sono due o tu hai un'intuizione e allora tu non hai nessun modello perché è l'oggetto che ti si presenta in carne e tosta ed è quello e non è negabile perché la negazione lo afferma oppure tu hai una significazione che è ciò tramite cui ti rivolge l'oggetto per cui può essere vero o falsa però non può non esserci nel caso del tuo ragionamento in realtà pensi attorno a quello che è una discrizione del tuo pensiero perché non puoi fare altrimenti un'analisi quindi è vero il fatto che tu crei nel senso che posso fare un'analisi di avere un pensiero che possa essere descrivibile la sua descrizione è un modello del pensiero non è di un pensiero reale quindi in realtà o tu che hai in questo modello con questa descrizione hai qualcosa che non hai nulla a che fare con il pensiero quindi tutte le rettorie che ne andiamo a creare comprese in realtà se ci badano non sono d'accordo con quello che dici nel senso come sempre non volevo dire ma non c'è problema cioè va bene non essere d'accordo se è guai essere sempre d'accordo però secondo me bisognerebbe pensare questa cosa che tu stai dicendo dovresti pensare quando tu pensi che potremmo dire essere autocosciente perché non esiste soltanto la coscienza risentia come una rappresentazione di se stesso cioè fare di se stesso un oggetto così come sono cosciente di questa bottiglia sono cosciente di me stesso esiste una forma di autocoscienza che è come dire intrinsegato stesso di coscienza cioè è un costantemente non essere ignoto a me di me stesso nell'atto di essere coscienza con altro questo non è un modello di me stesso però io ti parlo di due cose una cosa è avere tutto quello che riguarda la sensazione il sentimento di un qualcosa una cosa è costruire di questa cosa un pensiero su cui puoi analizzarlo se tu cerchi di pensare a quella bottiglia ma cerchi di pensare con qualcosa su cui ci vuoi lavorare finisci di essere una sensazione diventa una cosa che in qualche modo è linguata è descrizione e quindi per tutto non è più la realtà quindi non è più a me sembra cioè a me sembra di capire ma può darsi che mi sbaglio cioè mi sembra di capire dal tuo discorso che ci sia una visione di un pensiero fuori dal pensiero che rende distinto no? allora io credo che quello che a cui ci si possa riferire ma è sicuramente una mia vocazione fenomenologica è a ciò che si dà cioè allora quello di cui noi possiamo parlare di cui possiamo diciamo assumere dati appunto è solo quello che si dà cioè su quello che si dà nel modo in cui si dà allora il pensiero si dà in un certo modo il nostro diciamo la nostra struttura di significazione soprattutto in particolar modo io credo che sia proprio una cosa del pensiero in sé lavora nella divisione no? cioè nella perché del resto del resto la limitazione cioè il limite non è ciò che determina una fine oltre il limite ma è ciò che identifica cioè è ciò che il limite è ciò che ci serve per identificare con il limite noi non non possiamo vedere cioè non è da intendere il limite come un qualche cosa che una sorta di grande burrone oltre il quale non c'è più nulla no? noi siamo sempre dentro un gioco dicotomico quando noi parliamo di una apercezione di uno stato che va dalla luce al buio noi usiamo appunto luce buio noi usiamo vita e morte noi usiamo usiamo sempre delle dicotomie per riuscire a definire degli intorni del significato e quindi delle relazioni che ci descrivono un'osservazione ci descrivono un fenomeno che è mutevole e è proprio nella dicotomizzazione noi riusciamo a rispondere a questa mutevolezza ma io non vedo sinceramente diciamo un altro tipo di osservazione che possiamo fare cioè noi possiamo osservare che il pensiero si dà in questo modo e quindi pensare a un pensiero fuori dal pensiero io credo che sia difficile parlarne gli stessi cioè proprio no ma c'è il prossimo problema Dino perché il problema non è soltanto che ci do un'osservazione il problema il problema è che tu se dici che nel senso la realtà c'è sempre un modello di mezzo tu stai già andando per scontato che esista la realtà questo è un modello questo con cui io lo sto pensando è già qualcosa che non è più il pensiero questo è quello che voglio dire cioè inevitabilmente ogni volta che io parlo di qualche cosa proprio perché ne parlo costruire un modello che ricostruirà i segni di cui parlava lui e sono segni cioè finiscono di diventare realtà e diventano analogia per cui se noi riteniamo abitariamente una relazione da quello che è il pensiero e i segni il linguaggio e il mondo che lo chiamiamo non è più il pensiero tutto quello che diceva giustamente lui è vero ma tutto quello che diceva è un pensiero ma in realtà non è quello che uno sta pensando per dire tutte quelle cose tutto costruire un modello per poterlo esplicitare anche quello che si è un modello ma sì secondo anche questa cosa che ti viene adesso esatto e anche la mia no certo siamo sempre dentro ma siamo sempre esatto siamo sempre del mantello sopra che non si riesce allora o rinunciamo al diciamo al pensiero no oppure siamo dentro a questa cosa noi abbiamo la possibilità di pensare una cosa è pensare alle cose e una cosa è cercare di pensare alle cose al fine di descriverle e di esprimere e di comunicarle se io non la comunico se io vedo la luce io la vedo non c'è migliore di descriverla la vedo e passi quello è il pensiero se io invece voglio descrivere quella cosa allora per cui sono costretto a così un modello di quel pensiero là e diventa una cosa diversa quindi è vero che io ho detto una cosa sicuramente in caso in questo termine ma non è vero che io credo che entriamo non solamente dentro il discorso della comunicazione ma entriamo dentro il discorso dell'autocoscienza cioè ovvero entriamo dentro il discorso della presenza a se stessi e quindi della presenza del pensiero che pensa al proprio a fare oggetto di suo stesso quindi che si rivolge e questo è il nostro dato di autocoscienza del resto noi inevitabilmente dal momento che siamo dentro al divenire siamo costantemente e irrimediabilmente obbligati dall'essere nel divenire a trattenere il ciò che non è più e al proiettarci nel ciò che non è ancora che è l'unico modo con cui si può mantenere insieme una un'autocoscienza identitaria e quindi la modellizzazione cioè quindi il fatto di proiettarci di essere proiettati in in quello che sarà dopo essere proiettati nel non ancora è obbligatoriamente una modellizzazione è un'immagine di noi ma è quello che ci permette di fare qualsiasi cosa cioè di avere coscienza di noi stessi dentro al divenire